Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo della videocamera di sorviglianza Blink Mini 2. Sul canale ho già portato un video dedicato alle telecamere Blink e nello specifico ai modelli Blink Mini 2 e Outdoor, ma in questo video andiamo a vedere più nel dettaglio la telecamera Blink Mini 2 e vediamo perché potrebbe essere una telecamera interessante da aggiungere al nostro impianto. Questa è la Blink Mini 2, come vedete una videocamera compatta nelle dimensioni, vi dico subito che non è una videocamera che funziona a batteria ma deve essere alimentata. Nella parte posteriore abbiamo una presa USB Type-C per andarla a collegare in carica, all'interno della confezione è già presente un cavo di ricarica e un trasformatore, quindi abbiamo tutto il necessario per collegarla alla corrente, configurarla e metterla in funzione. Volendo, quando andiamo ad acquistarla è possibile selezionare anche il cavo per esterno perché infatti questa Blink Mini 2 può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno e quindi con il cavo dedicato alle intemperie potremo posizionarla anche sotto acqua, pioggia o neve senza alcun problema. Prima di andare a vedere le caratteristiche di questa videocamera vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è il link per acquistarla su Amazon al prezzo scontato, fatelo ora prima che sia troppo tardi. Tramite l'applicazione possiamo semplicemente schiacciare più, aggiungiamo mini videocamere e da qui vado a inquadrare il codice QR posto qua nel retro in modo tale da fargli riconoscere la telecamera e collegarla al Sync Module 2. Sync Module 2 che è il modulo che ho trovato nella confezione delle Blink Outdoor che permette di far dialogare le telecamere con la mia rete wifi e di avere quindi un collegamento sicuro e inoltre offre la possibilità inserendo una chiavetta o un hard disk attaccato al Sync Module di registrare tutti i video che le telecamere fanno direttamente sulla chiavetta. In questo modo non sarà necessario dover attivare un abbonamento a pagamento. Mentre termina la configurazione vi dico alcune caratteristiche interessanti, telecamera con audio bidirezionale quindi potremo sia ascoltare che parlare tramite l'applicazione, nella parte alta è presente un faretto LED integrato che andrà a illuminare al meglio la zona da andare a riprendere, ovviamente visione notturna in HD e possibilità di posizionarla all'esterno anche alle intemperie. L'unica cosa che vi dovete ricordare è il fatto che deve essere sempre alimentata. Una volta che è configurata accedo dall'applicazione così ve la faccio vedere direttamente in funzione, questo è quello che va a riprendere la fotocamera in questo momento, come vedete c'è un po' di ritardo e per quanto riguarda il video però la qualità è buona. Dall'applicazione posso andare anche ad accendere la luce, in questo modo probabilmente riuscite a vedermi meglio, ha acceso la lucina sopra, poi la posso andare anche a spegnere in modo tale da controllarla direttamente tramite l'applicazione quando ne abbiamo bisogno. In questo modo posso andare a effettuare una registrazione live direttamente sul cloud o sulla chiavetta se l'abbiamo collegata e poi andarla a rivedere tramite applicazione. La cosa comoda di questo dispositivo come gli altri dispositivi del gruppo è che potrà essere richiamato sui dispositivi Echo per visualizzare direttamente le immagini riprese dalla telecamera su un Echo Show. Ad esempio se abbiamo l'Echo Show 5 come nel mio caso potrò richiamare il nome della videocamera e chiedere ad Alexa di farmi vedere che cosa sta riprendendo la videocamera in quel momento. Ed è una funzione molto utile se vogliamo avere un monitor sempre a disposizione senza dover utilizzare il telefono. Con un comando vocale avremo subito le immagini che ci interessano. Come tutte le telecamere del gruppo Blink ovviamente è possibile andare a gestire le varie impostazioni di luminosità, di sensibilità per quanto riguarda le notifiche inviate. Per quanto riguarda il programma di abbonamento potete partire con quello gratuito che vi permette di ricevere le notifiche quando viene rilevato un movimento. Se avete collegato poi una chiavetta al Sync Volume 2 allora la registrazione verrà salvata lì e potrete rivederla dall'applicazione. Se invece avete attivato il programma cloud verrà salvata direttamente online e quindi anche qui potrete rivederla. Per quanto riguarda invece la telecamera arriva con questo modulo che può essere installato nella parte bassa che ci permette di posizionare la Mini 2 al muro e poi ci permette di andare a effettuare una rotazione dello schermo in modo tale da andarla a posizionare come meglio credete. Possiamo posizionarla sia attaccata al soffitto in questo modo e poi andandola a inclinare magari per riprendere al meglio la stanza. Possiamo posizionarla anche solamente in piedi appoggiata su un mobile senza la necessità di ulteriori cavalletti. O volendo possiamo anche scollegarla dall'attacco sottostante e attaccarla nell'attacco posto nella parte dietro. In questo modo abbiamo il posizionamento migliore magari se vogliamo attaccarla ad un muro e possiamo poi inclinarla e girarla della rotazione che ci interessa per andare a comporre al meglio la zona dell'inquadratura che vogliamo video sorvegliare. Queste sono un po' tutte le caratteristiche di questa Blink Mini 2. Come vi ho detto il vantaggio rispetto alla Blink primo modello è che possiamo anche metterla in esterno dobbiamo solo ricordarci che abbiamo bisogno sempre dell'alimentazione e nel caso in cui dovremo posizionarla in una zona con alte probabilità di pioggia, grandine e neve sarà opportuno acquistare il cavo dedicato appunto per l'esterno e non utilizzare quello per l'interno. Come al solito se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto rispondo sempre a tutti fatemi sapere se voi avete già provato la Blink Mini 2 nel vostro impianto di video sorveglianza Blink e nel caso come vi siete trovati per questo video con la Blink Mini 2 è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao Enrico. Grazie